Rafforzare il contrasto all'antisemitismo negli stadi, questo l'obiettivo dell'intesa sottoscritta al Viminale tra il ministro dell'interno Piantedosi, il ministro dello Sportabody, il coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo Pecoraro e la Federcalcio. Apprezzamento per l'accordo da parte del presidente delle comunità ebraiche di Segni. Tra le misure di vieto per i calciatori di indossare nella maglia 88, numero usato nei gruppi neonazisti, no a simboli antisemiti. Interruzione della partita in caso di cori discriminatori.